Oggi parliamo di reddito di cittadinanza. Perché si sta facendo in qualche modo largo l'idea che questo provvedimento stia per essere definitivamente bloccato? Allora cerchiamo un po' di fare chiarezza e cerchiamo di capire se per davvero si va verso lo stop del provvedimento, se davvero si va verso lo stop del reddito di cittadinanza e quindi se davvero anche chi ha ricevuto i beneficiari del sussidio debbano iniziare, qualcuno direbbe finalmente, a cercarsi un lavoro. Allora innanzitutto parliamo di questo mese, cioè di settembre. A settembre scadono i primi 18 mesi della misura. Di cosa stiamo parlando? Parliamo delle persone coinvolte, cioè di chi ha fatto domanda a marzo 2019 e sostanzialmente sta per ricevere l'ultima mensilità. Dopo il mese di settembre non riceverà più alcuna mensilità. E allora cerchiamo di a questo punto dare una risposta alla domanda che abbiamo dato all'inizio e cioè davvero sta per essere bloccato il reddito di cittadinanza? La risposta è no. Occorrerà ovviamente fare il rinnovo. Una domanda di rinnovo può essere respinta? La risposta è sempre no a patto che i requisiti ISE non siano cambiati. Dunque il reddito di cittadinanza andrà avanti salvo nuove comunicazioni ovviamente da parte del governo. Ma ricordatevi alla nuova domanda bisognerà sostanzialmente comunicare eventuali nuove modifiche, comunicarle tramite il modello SR 181 e quindi in questo modo da comunicare queste modifiche all'Inps. In particolare se il nucleo familiare dovesse essere cambiato bisognerà presentare il nuovo ISE e quindi anche una nuova domanda. C'è da dire che se il nucleo familiare non fosse in possesso dei requisiti già non starebbe ricevendo più il sussidio perché i requisiti vengono valutati attraverso la certificazione ISE 2020 e hanno dovuto, tutti i beneficiari hanno già comunicato a gennaio 2020 obbligatoriamente gli aggiornamenti ISE per continuare a ricevere il sostegno economico. Che cosa c'è da sapere sostanzialmente? Le cose importanti da sapere sono le seguenti. Aspettare almeno un mese dalla sospensione per poter presentare una nuova domanda e se qualcuno del nucleo familiare, questo forse è il passaggio più importante, se qualcuno del nucleo familiare avesse già iniziato a lavorare beh insomma va comunicato nella richiesta perché questo potrebbe essere fondamentalmente l'unico motivo per cui una domanda può essere respinta perché sostanzialmente verrebbero superate le soglie previste per continuare a ricevere il reddito di cittadinanza. Detto questo è necessario un'ultima riflessione e cioè la fotografia che vedete qui alla mia sinistra dovreste averla riconosciuta, è diventata quasi virale, questa e non soltanto, si tratta dei due fratelli bianchi accusati di aver ucciso il giovane Willy Duarte in una sorta di rissa che è accaduta a Colleferro nella regione Lazio. Perché parliamo di loro? Perché la polizia e gli inquirenti stanno approfondendo la loro inchiesta guardando il loro tenore di vita insomma hanno scoperto secondo la guardia di finanza avrebbero ricevuto illegittimamente il reddito di cittadinanza per una quota superiore ai 33 mila euro. Ovviamente toccherà agli inquirenti capire se la verità effettivamente è quella che agli avvisti protagonisti di questo reddito di cittadinanza se hanno davvero intrascato il reddito. Questo però è ovvio che ci fa capire come le misure di sicurezza le misure che garantiscono che chi debba ricevere il reddito di cittadinanza lo riceva e chi invece non deve riceverlo non debba riceverlo. Beh insomma è un indicatore forte che le misure di sicurezza debbano essere migliorate debbano essere implementate, debbano essere sostanzialmente cambiate anche in virtù di quanto accaduto qualche mese fa con i parlamentari, cioè i politici che, quei cinque politici che hanno chiesto e ottenuto il bonus che era invece riservato alla partita IVA e invece l'hanno incassato nonostante ogni mese portino a casa un'indenità superiore ai 12 mila euro che poi è la cifra prevista per ogni parlamentare che ci rappresenta in Parlamento.